Amici di SSFanta, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi vi parliamo di parametri zero, di opportunità, di giocatori che andranno appunto in scadenza tra qualche giorno. Ma ovviamente prima di farlo ricordatevi di scaricare la nostra app per tutti gli aggiornamenti di Fanta Calcio, di Calcio Mercato, insomma di tutto. E anche iscrivetevi al nostro canale YouTube perché ogni giorno appunto vi portiamo dentro questo mondo, dentro le notizie, dentro il retroscena. Parliamo di giocatori appunto a parametro zero, non parleremo oggi in questo video di giocatori come Milan Skriner, ad esempio, che ha già firmato un precontratto con il Paris Saint-Germain, oppure con Awar che è stato già ufficializzato dalla Roma, ma parliamo di giocatori che sono appunto ancora in scadenza di contratto e che il loro futuro non è ancora stato definito. Partiamo dalla Premier League e partiamo da Adama Traoré, giocatore che non rinnoverà con il Wolverhampton, un giocatore fisico, veloce, ha fatto molto bene in Premier League appunto con il Wolverhampton, 27 anni, quindi ancora nel pieno della sua maturità e della sua carriera. È un po' calato quest'ultima stagione, ma il suo rendimento è calato insieme a quello di tutta la squadra perché il Wolverhampton appunto ha avuto non poche difficoltà, ha cambiato anche l'allenatore, è arrivato Lopeteghi, si è salvato un po' nella seconda parte di stagione, quindi è stata una stagione molto complicata per il Wolverhampton. E Adama Traoré nonostante questo ha fatto 40 presenze, quindi un giocatore comunque che ha portato il suo rendimento e può essere un'opportunità per diversi club europei e perché no anche italiani. Un giocatore sicuramente che ha fatto esperienza, che conosce il campionato inglese, ma appunto avendo giocato anche al Barcellona, anche cresciuto nel Barcellona appunto, ha sicuramente fatto esperienza internazionale e può essere un'opportunità per i club anche italiani, perché no. Passiamo al secondo giocatore ed è Jonathan Bamba, un giocatore che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille classe 1996, un'ala sinistra in questo caso, e Bamba è stato accostato anche in passato a diversi club italiani, è arrivato dal Saint-Étienne, è stato acquistato dal Lille per 8 milioni di euro, ha fatto bene, è stato un giocatore sicuramente centrale nel progetto Lille negli ultimi anni, non rinnoverà il contratto e quindi questa è sicuramente una cosa importante, può essere un'opportunità di mercato. Si era parlato di lui anche per il Napoli, nel caso in cui Galtier fosse andato ad allenare la squadra italiana, poi ovviamente sappiamo la notizia di giovedì, il clamoroso annuncio di De Laurentiis con l'arrivo di Rudy Garcia appunto sulla panchina del Napoli e questo probabilmente cambierà anche gli scenari di mercato per il Napoli stesso. Terzo nome di questa lista, Oxlade Chamberlain, giocatore molto importante, storico del Liverpool negli ultimi anni, anche se non ha giocato con frequenza, con continuità, in particolare nell'ultima stagione, ma comunque rimane un giocatore che è stato centrale nel progetto di Jurgen Klopp, di tutto questo ciclo così vincente, storico del Liverpool. Chamberlain non rinnoverà il contratto con il Liverpool, insomma ha un po' subito quello che è un processo di rinnovamento della squadra inglese che vedrà diversi giocatori partire, ad esempio Minner, Napichetta, lo stesso appunto Chamberlain e diversi giocatori arriveranno come McAllister che appunto è stato già acquistato dal Brighton, e insomma altri giocatori che sicuramente arriveranno quest'estate e Chamberlain ha un po' subito questo processo di rinnovamento, però può essere un'opportunità per diversi club. Si parla in questo momento in particolare dell'Aston Villa che a proposito dei parametri zero ha già preso Tielemans dall'Eister, quindi insomma ha già fatto un colpo importante. Chamberlain può essere un colpo di esperienza con giocatori di 30 anni, classe 1993, quindi sicuramente può essere un innesto importante e poteva essere anche magari per i club italiani, ma sembra destinato a rimanere in Premier League. Altro giocatore, parlando di Liverpool, che ha fatto la storia di questo ciclo vincente di Rugen Klopp è ovviamente Roberto Firmino. Roberto Firmino, una leggenda del Liverpool che anche in questo caso ha trovato meno spazio nell'ultima stagione, questo è anche ovviamente per gli arrivi, per i giocatori che sono arrivati a Liverpool, ma Firmino è un'opportunità di mercato, perché ok, l'età non è più giovanissimo, è un classe 1991, quindi ha 32 anni, però diversi club ci hanno pensato, ci stanno pensando. Si era parlato ad esempio anche del Real Madrid, quando il Real sembrava che dovesse andare a cercare un vice Benzema, poi ovviamente ora i scenari sono cambiati anche in questo caso, perché appunto Benzema è andato via e quindi il Real Madrid dovrà un po' rivedere quelli che sono i piani per l'attacco per quest'estate. Però Firmino è un giocatore, un'opportunità, un giocatore che ha fatto sicuramente la storia di Liverpool, ha segnato tantissimi gol fondamentali per la squadra di Klopp, sia in campionato che in Champions League, e quindi può essere davvero un colpo importante di quelli un po' magari sottovalutati, di cui magari non si parla tanto, però è un giocatore d'esperienza, un giocatore che può portare sicuramente qualità e anche tanti gol nel club dove andrà a giocare. Stesso ruolo, diverso tipo di giocatore, parliamo di Marco Sturam, 1997, quindi in questo caso sicuramente un giocatore più giovane, uno dei migliori talenti di questa lista sicuramente. Marco Sturam, che sappiamo che in questo momento, dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto col Borussia Mönchengladbach, si trova un vivio, deve decidere tra Milan e Paris Saint-Germain. Sono ore sicuramente queste molto calde, in cui il giocatore andrà poi a prendere la sua decisione definitiva, però Marco Sturam è un giocatore veramente importante, uno di quelli che può andare a caratterizzare una finestra di mercato, un giocatore che tra l'altro in passato è stato già vicino all'Italia, perché nell'estate del 2021 ci aveva pensato l'Inter e l'Inter lo voleva appunto portare in Italia, poi per una questione anche di infortunio, perché si ruppe appunto il ginocchio in una partita a fine agosto in Bundesliga col Borussia Mönchengladbach e alla fine l'Inter decise ovviamente di non acquistarlo in quella finestra di mercato e doveva essere un po' uno dei sostituti di Romero Lukaku, era quell'estate in cui l'Inter stava cercando un po' di rifondare l'attacco dopo l'addio di Lukaku, di Conte, di Achimi e poi appunto sappiamo com'è andata. Prendiamo gli ultimi due nomi di questa lista, il primo è quello di Daichi Kamada, giocatore che è molto vicino a vestire la maglia del Milan, classe 1996, un trequartista, dopo appunto la fine del suo contratto con l'Eintracht Francoforte, in questo momento la situazione, la pista più calda, come sappiamo, quella che vi stiamo raccontando tutti i giorni anche sull'app di SS Fanta e quella di andare appunto a giocare con il Milan. C'è ancora un po' di cautela sull'affare Kamada perché ci sono delle questioni burocratiche che vanno ancora definite, ma il Milan è fiducioso di poter mettere sotto contratto Kamada. Kamada è un giocatore che era già stato cercato, era già stato ricercato dalla gestione Maldini-Massara in precedenza e poi quando c'è stato il cambio di dirigenza, quindi oggi con Forlani, Moncada appunto a capo del mercato del Milan, si è deciso appunto di continuare su questa pista, quindi il Milan cercherà in tutti i modi di mettere sotto contratto Kamada nei prossimi giorni quando si risolveranno appunto questi cavilli burocratici che mancano. Ultimo giocatore alla nostra lista, Moussa Dembélé, classe 1996, attaccante, giocatore che negli ultimi anni, nell'ultima stagione si è un po' perso, soltanto tre gol, pochi minuti, però rimane un giocatore appunto, anche vista la sua età, che può essere un'opportunità, non rinnoverà con il Lione, è già stato annunciato sia dal club che dal giocatore, quindi le loro strade si separeranno e può essere un'opportunità per diversi club, ci sta pensando l'Aintra, Francoforte nel caso che l'Umani dovesse partire, ci stanno pensando diversi club europei e magari anche qualche club italiano potrebbe pensarci, perché è un giocatore che si è vero, si è perso magari nell'ultima stagione, però ha dimostrato già di essere un tipo di profilo, un tipo di attaccante importante che può portare diversi gol. Questa è la nostra lista di giocatori parametri zero più sottovalutati, se secondo voi manca qualche nome, avete qualche suggerimento, non siete d'accordo con i nomi che abbiamo fatto, scrivetecelo nei commenti sotto questo video.